Vittima innocente, di che cosa si tratta e come nasce l'idea di questo libro che so che sta ottenendo tantissimo successo nelle varie presentazioni? Allora, Vittima innocente è la storia del maresciallo Alfonso Bolognesi che io conosco dal 1997 e siamo diventati amici. Nel 2007 è stato coinvolto in una grossa vicenda giudiziaria che ho seguito io nei diversi gradi di giudizio. È il calvario di un uomo, ma durante la sua prigionia, io la chiamo prigionia, quando è stato nel carcere per ben quattro anni, ha scritto un diario. E io lo andavo a trovare spesso, almeno due volte alla settimana, tre volte alla settimana, per dargli coraggio, anche se poi quel coraggio l'ho trovato dentro di sé, attraverso la fede. Io gli ho detto scrivo un diario. Ha scritto questo diario di quello che accadeva giorno per giorno, sia intorno a lui che dentro di sé, per trovare la forza per andare avanti, e descrivere le emozioni di quello che provava e tutte le sue sofferenze. E io ho fatto mio questo diario come racconto del suo vissuto carcerario a me, mettendoci le parti giurisprudenziali, dei processuali, e anche, come dire, dei risvolti che ci sono stati, perché poi in realtà ha subito tre procedimenti, di cui due assoluzioni, una condanna, e poi assolto in sede di revisione. Qual è stata la... c'è qualche parte di questo suo calvario che ti ha colpito di più come legale? Ma mi ha colpito la forza, la forza di quest'uomo di affrontare con dignità, con fede, con coraggio, e con grande, come dire, senso del dovere, il carcere. Sia dal momento in cui ha voluto costituirsi, io l'ho accompagnato al carcere di Santa Maria Capovetere, sia, tutte le volte che l'ho visto, era quasi quasi lui che dava forza a me e coraggio a me per andare avanti. E ha preso questa esperienza brutta come un'esperienza di vita, ma sempre fermo nella convinzione che un giorno, chissà quando, la verità sarebbe venuta fuori. In effetti, io dietro al libro ho scritto una frase bellissima di Sant'Agostino, la verità è come un leone, non avrei bisogno di difenderla, lascia la libera, si difenderà da solo. E così è successo. L'abbiamo lasciata libera, si è difesa da sola, è venuta fuori la verità, ed è stato assolto, e ora bisogna ritagli la dignità giusta, perché è stato riammesso in servizio, purtroppo per solo due mesi, poi per raggiungimento dei limiti di età è andato in pensione. Ma a chi gli restituirà i 14 anni persi? E questa è la domanda che ci poniamo. La sua prossima presentazione dove avverrà? La mia prima presentazione l'abbiamo fatta al Grand Hotel Bambitelli, quasi 500 persone, il 9 di febbraio. La prossima avverrà al Villaggio dei Ragazzi, a Maddaloni, l'8 di marzo, di mattina, dalle 9.30 alle 12.30. Ci saranno tutti gli istituti del villaggio, più gli esterni e più le famiglie, e quindi ci sarà a Maddaloni. Spero che avremo lo stesso successo che abbiamo avuto, ma c'è un'iniziativa che abbiamo posto in essere, che è molto molto bella. Mi ha anticipato la domanda. Sì, l'iniziativa del Libro Sospeso, che riprende un po' l'iniziativa del Caffè Sospeso, che era una vecchia iniziativa napoletana, in cui un ricco prendeva due caffè e lasciava uno pagato per un povero. Noi abbiamo voluto mutuare questa iniziativa e abbiamo voluto fare in modo di mettere in vendita ad un prezzo irrisorio questo libro, di modo che chi lo acquista ne acquiste due. Uno lo porta a casa, l'altro lo lascia lì in una cesta e quelli lasciati in una cesta, nella prossima presentazione, nella terza presentazione, che la faremo in un carcere, verranno dati ai detenuti, affinché praticamente vengono alleviate le loro pene. E non a caso la prefazione del libro è stata fatta da Patrizio Connella, che è il presidente di Anticone, e io sono membro di Anticone, socio di Anticone per i diritti dei detenuti. L'ultima domanda. Dove si può trovare il libro? Dove si può acquistare? Allora, man mano verrà diffuso, lo stiamo diffondendo nelle varie librerie, ma soprattutto in forma online, perché adesso i social e gli online prendono il via in una maniera eclatante e forte. E su ebay basta cliccare vittima innocente che viene fuori praticamente dalla pagina del libro e arriverà fino a casa.